Agente Nicolo e agente Matilde La missione di oggi è molto delicata Si parla infatti di uova No, 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 non queste No, no, neanche queste Ma queste uova Si, la missione di oggi è la caccia alle uova Kinder 2022 Se le trovate tutte, e solo se le trovate tutte, riceverete un bonus Un uovo per i vostri genitori Perché volete regalare un uovo ai vostri genitori, vero? Si! Prendete questo messaggio Io mi autodistruggerò tra 3, 2, 1 Il messaggio sta arrivando Io farei il giro di zaino, agenti Giro di zaino col messaggio Ma che facile Dovete sapere che gli agenti speciali hanno in dotazione apparecature super tecnologiche E anche degli indizi, ovvio Perché questo è una caccia al tesoro Controllate cosa vi avete in dotazione Gile Olchi tochi Olchi tochi Per comunicare in ogni situazione Torcia Torcia Sempre utile V Scatolina con Vediamo Ma sì La lente Il nostro microscopio Della sfida al microscopio Ho ancora una tasta Che avete visto qui su GBR Occhiali da gente speciale Provateli, provateli Come sono questi occhiali? C'è una cosa strana Qua sono un po' specchio Prova a metterli su Oh che bello Vediamo che succede dietro Veramente Fai vedere Sono occhiali dotati di specchio Sulla parte laterale E in questo modo tu puoi guardare avanti Ma allo stesso tempo guardarli indietro Vediamo Matti se mi vedi Mettili su Vedo la torre della cucinetta Anche il puff Questo è l'effetto speciale ragazzi Metà lente è da sole E metà è da specchio Orsu Mentre loro infilano Leggiamo il primo indizio Battuto come una volta La macchina da scrivere In libreria Un libro che non è un libro Si nasconde Per aprirlo Lo specchio del bagno Vi risponde Forse ho capito Hai capito? The new english dictionary Un dizionario Non ce l'abbiamo mai avuto Che cos'è? Ma Una chiave Un dizionario cassaforte Per aprirlo Lo specchio del bagno Vi risponde Andiamo allo specchio del bagno E l'attrezzatura ragazzi Però eh Pronto all'azione Apriamo il bagno Entrate con circospezione ragazzi State attenti Avete detto specchio? È scritto al contrario C'è una scritta al contrario Ci vuole qualcosa Gli occhiali Bravo Gli occhiali Sotto Al dentifricio Al dentifricio Incredibile Sotto al dentifricio Hai visto? Sembrava che stessero guardando Il cielo Il cielo La doccia E almeno può leggere anche così Descrivere Devi leggere dalla sella o Dalla a la l E dalla d Ad alla o Ma cosa c'è sotto al dentifricio? Acqua Acqua Possiamo leggere i fondi I fondi dell'acqua Ad aprire un Ma aspetta qua ci sono due dentifrici ragazzi Un libro Quella è la chiave Andiamo Apriamo la cassaforte Cioè il cassa libro Come si chiama? Non lo so Insert the key Ha girato? Si è aperto 01 Le uova sono qui nella libreria Però potevano dircelo prima che erano in libreria Eh Si ma No Il risultato deve essere No Non i piatti Come va? Vai Guarda eh Ladybug Giro di scatola ma guarda Premo un pulsante Oh È segretto l'uovo Attenzione Potrebbe Già aprire delicatamente Potrebbe esserci Una creatura Prima Giro di uovo Vai Anche Miki giro di uovo Ah Si è già attaccato un pezzo Il nucleo dell'uovo Il nucleo Vedete che ci sia il chanoir 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 Non c'era prima l'assaggio mi pareva È vero C'era l'assaggio Bravissima Assaggio obbligatorio Un massaggino piccolino Mi raccomando Cata cata Cispa No Gattino Anche quest'anno Beh però magari è una versione nuova Guarda Speriamo Ah si È un triceratopo Un po' anche degli anni scorsi Ma sono articolati questi Ah è vero si Non muoverò in attesa dell'uscita del film Ragazzi ci siamo Terzo capitolo di Jurassic World Abbiamo visto il trailer su YouTube È bellissimo Vai Tiki Cominci papillon Cosa ha detto scusa Ha fatto il saluto papillon Cominci papillon Scherzavo Ho una bella voce Vai Tiki Wow Ma come ha fatto? Ma che velocità No fammi rivedere Mando tutto Ha fatto così Oh Bellissimo Noi siamo pronti per scannerizzare Bene Scansioniamo con l'applicazione Ottimo assaggino E giochiamo L'ha preso L'ha preso Apri apri Oh Dove sei? Eccola Ma è pucciosissima Ma che carina che è È molto più evoluto Rispetto al passato Wow Vai Trova gli oggetti Ci sono oggetti nascosti Ah da cercare in giro È una specie di caccia al tesoro Col tablet Ah ci sono le freccette Ah ti ti aiutano a cercarle No Eccola eccola L'avete trovata? Aspetta Lady vai qua Eccola Si sposta col dito Vedete? Dove toccate Dove tappate Valedy Lei raggiunge Guarda ci sono anche gli sfondi ufficiali C'è il parco Sì La casa di Marinette Ma io voglio le maschere Torniamo indietro allora Wow Anche Nicolò Potete farlo in due In tre Guarda come l'ho fatta È stupenda Con quello sguardo furbetto Che dice Adesso sto mangiando cioccolata Sì Ma no Andiamo a vedere i dinosauri Vai scansioniamo il triceratopo Preso Scazione giurassica Apri il pacchetto Wow Ma sono bellissimi Super Pucci Andiamo Caccia Devi trovare gli oggetti Anche lui c'è la caccia al tesoro Tipo Ladybug Credo che la cosa migliore sia farlo su un tavolo più grande Perché così abbiamo tutto il nostro mondo da esplorare Ti piace il mio disegno No Ma cos'è tutto verde Il mitico portale di Jurassic Park Non si fa Adesso l'hai sporcato Non so Pulisce Andiamo a vedere le mascherine che è meglio Molto meglio Un triceratopo Che mangia Una triceratopa Che cosa fai Ale È una triceratopina Che va a cavallo Con Ladybug di un triceratopo La cosa che mi piace di questa app È che si possono fare le foto assieme Agenti siete pronti alla prossima missione? Certo E allora Non avete trovato qualcosa? Eh infatti forse manda qualcosa Niente Andate a controllare va Mmm Non hanno tossato gli occhiali speciali C'è una missione Avete visto? No ma L'avevo detto io È la missione 02 Missione 02 Missione 02 Missione 02 E poi cosa c'è scritto? Niente Niente Sicura sotto la 1 c'è scritto qualcosa È piccolissimo Mmm Che strumento Ragazzi Quanto piccolo è So cosa fare È veramente super La lente Brava mate hai ragione Basta che apri qua Ecco ecco l'avete passata Ci siete Appoggiare A fuoco È fresco nel frigo Della cuginetta È vero C'avevamo anche sulla televisione Apre il frigo Ecco ecco E quello è il frigo Vai Trovate C'è stato uno scambio C'è stato uno scambio Io Elsa Abbiamo Frozen anche quest'anno La terza missione E poi abbiamo gli Avengers Apriamo anche quest'anno nuove missioni No guarda che carino Non vedo l'ora di vedere le maschere Io sono troppo carina Allora Guarda che carina Elsa Oh piccola Ci sarà la maschera di Elsa allora Guarda che carino Interessore segreto Guarda che bella che si apre Uno ha aperto Anche l'altro ha aperto Spacca uovo Weeha Viva la calma La mossa della gente speciale Cos'hai trovato lì in basso? Thor Ma anche questo è diverso da quello che abbiamo trovato anni fa giusto? Sì Hanno cambiato le sorprese Oh Mati Mi piace Chi è? Ah un sacco anche a te Non dirmi che ti è caduto un uovo sul piede Vai hai trovato proprio Anna Sì finalmente C'è anche Olaf Come c'è anche Olaf Sì Dai due personaggi Non ti preferisco La cosa mi piace Ma ti sa fare quel faccino Quale? Quello di Anna Eccola Precisa Lo puoi tirare su e giù Simpatico Sembra buona giù Guardate Guarda Anna il mio bagno Vediamo Sì 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 Guarda che conquista Sì Guarda Attenzione Thor Con il suo martello Sono girevole Vediamo Thor da vicino Guardatelo che posa Posso fare questo? L'Anne Express Forza Anne Express Vai Thor Forza Troppo pesante Thor Mi scusi principessa Ma vedi che riprende il personaggio che rota il martello Proprio lo stesso della figura che abbiamo trovato Scusate siccome non abbiamo Sven intanto Sì Chiediamo al triceratopo Si ci porta in giro Ahahah È stata una pessima idea ragazzi Sorretta dal triceratopo Vediamo Apri il pacchettino Mati Quanto sarà puzzosa Vediamo Oh Carina Maschera No Che bella la maschera Guardate quanto è puzzosa In versione piccolina Provata Adorabile Scoprirò la tua identità Ladybug No Thor Non farlo Potresti aiutare Papio Guarda noi Ma quanto siete carine eh Con la corona di Anna Adesso È il momento della missione 03 Vai Dov'è la missione 03? È nel dizionario No giusto È tenuta al sicuro Ma ti le conserva gelosamente Oh 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 no la chiave La chiave dov'è? Era finita nel cioccolato No Vedete che qualcuno la voleva mangiare No assolutamente no L'ho messo io qua dentro al sicuro In bagno adesso c'è un oggetto prezioso Per prenderlo risolvi il codice misterioso Andiamo in bagno Torniamoci Oh mio dio Cosa c'è? Oh mio dio È sotto al dentifricio Eh 3 più 6 Dobbiamo fare queste cose Ah il codice Allora Faccio io Allora Tu premi 3 più 6 9 Premi 9 3 No solo il risultato Matti Non è una calcolatrice Però è una bella idea Pensai se fosse anche una calcolatrice Non è una calcolatrice Eh niente Devi sbagliare Sessione sbagliata Ancora Oh oh Ok 3 No 3 più 6 9 Bene 6 3 3 per 2 10 meno 7 8 8 Eh noi pensiamo che fosse un 2 3 5 Ok 10 diviso 2 è 5 Girate la maniglietta Come nelle vere cassaforti Cosa è? Carta igienica Carta igienica Dico anche io Sul water Giusto Tuttu Aspetta ma è un rotolo E allora se è un rotolo Si srotola Sotto al Lavandino Eh non lasciate Non lasciatela aperta ragazzi Come hai fatto a leggere? Sotto al lavandino così velocemente Sotto al lavandino così velocemente Sotto al lavandino No Sì Sì Queste sono giuste Vado via adesso Vado via Il nuovo indizio A me cosa è rimasto? La carta igienica Grazie Ale E non decifrate Quando dentro c'è la cioccolata Però mi ricordo il codice È 9 6 3 5 Soprattutto non dimenticatevi il codice Se dentro c'è la cioccolata Altrimenti non la mangiate più Ce l'ho fatta Vai Dammi la cioccolata No Ecco Non mi è rimasto niente neanche stavo Grazie Mati Uovo delle principesse Uovo delle principesse Mentre Nicolò ha trovato Spider-Man Guardate la pucciosità di Spidey Sarà così carino Guardate c'è lento La versione pushy Ah Sarò lei nell'app allora Lo scopriremo Sono quasi un gole più grandi Ti riconosco Perché hanno le righe quelle più grandi La versione Maxi Uovo grande Sorpresa grande Un vero gente ninja Ahia che male Bisogna farlo dalla parte Dove c'è l'apertura Uovo arancione Uovo giallo Ti serve un martello Uovo Io il calzo non lo vesto Ma che ci fai lei in fu No È partita Matilde non guardate Marto urlata Marto che È la parte dell'articolo Anche Anna non ecco Capperi Qui c'è dentro veramente di tutto Wow Allora Guarda c'è anche Goblin Immancabile Ragnatele Macchina Sì Spiderman mini dentro la macchina Mezzo Spiderman E cosa vediamo Con la sua carrozza Ah un nuovo carrozza Al cioccolato È arrivato bene No hai trovato bene Ma non solo Non solo Il mio sacchetto No Cassetto Non sacchetto E cosa No un sacchetto porta Un cassetto Mi avete contagiato col sacchetto Ma che carino No È un po' come questo Capito Ah giusto È come i nostri enti speciali E guardate Vedi Io l'ho detto che è tutto un piano Non è un caso ragazzi Guardate Qua C'è Goblin Contro Spiderman La sfida si ripete Goblin è sul suo mezzo Su una torre Spiderman lancia la sua ragnatela Ma sbagliamila E lo manca Incredibile Che succede? Si prova con la macchina Ma è caduto dalla paura È scavato da Spiderman Incredibile Ha preso paura Il bello è che ci sono due giochi in uno Ancora Abbiamo sia il lanciatore Avete visto di ragnatele su cui Spiderman è appoggiato Sia la macchina La macchina non è una macchina qualsiasi Perché è una macchina a retrocarica E oltre a lanciare la stessa ragnatela che abbiamo visto prima Che se cade la torre si rompe anche Aiuto La macchina invece Mi scioglierò E' quella Dove è andata? Dove è andata? Dove è andata? E stava guardando prima Vai e batti Occhio Ho messo massima potenza E' saltata a prendere belle Hai visto che potente? Se avete rotto Spiderman ve ne porto uno di riserva Cosa dite? Ma che bello Quanto carino Ragazzi Tocca belle Guardate che eleganza E adesso Bella Già ha collezionato tutto Imposa E Mascherata Sai che è anche la rosa rossa quella di Cosa stavi facendo con la cassaforte? No ho messo al sicuro tutti i codici Oh bene Andiamo alla quarta missione In cucina c'è la scatola misteriosa che contiene ogni cosa Giusto Fai come un vero agente Guarda Senza aprire niente E come si fa? Ecco la scatola misteriosa Non puoi aprirla eh Dovete riuscire a guardare dentro senza aprirla Guarda troverso Ti piacerebbe Sono molto in montagna Siete fortunati Abbiamo a disposizione Abbiamo a disposizione Tecnologia per vero agente Aprite aprite Abbiamo una grande dotazione Questa ragazzi è vera tecnologia Hai capito? Bravo È una telecamera endoscopica Vi permetterà di entrare nella scatola senza guardare Qua potete regolare l'intensità della luce Più Cosa fai? Possiamo vedere se hai le tonsille Le tue tonsille L'ugola L'ugola Ecco adesso dobbiamo vedere l'ugola Vediamo Queste ragazzi sono le tonsille di Mati La lingua Se le tonsille vi sono piaciute mettete un po' Ok Ora entriamo nella scatola Allora cosa c'è? Un baratto di pomodoro Un baratto di pomodoro Un farero rocher Un cioccolatino Un cioccolatino Buono Posso provare io? Aspetta Sì Vai Facciamo cambio Nicolò tu provi a dare istruzioni Questo sembra pelo Sembra pelo Vai avanti oltre il pelo Vai gli sei una polpetta Pelo La polpetta lì dentro speriamo di no Vai vai entra Potete entrare un po' di più eh Ah sì sì C'è tantissimo cavo Questa può essere usata per ispezionare tubi Eh aspetta aspetta Cosa hai visto? Ecco Ecco Cosa c'è scritto? Nel forno Nel forno Nel forno Vai si legge Vediamo che non siamo sciolte Oh no Per fortuna è spento Guarda che carino Batman E' pucciosissimo Batman E' pucciosissimo Batman Missione 5 Missione 5 Tu Mattei cosa hai trovato? Oh questi animaletti pucciosi sono davvero tanto carini Del WF Del WF Ci siamo riorganizzati Ma è così Questo sì che è un crack Tante cioccolata Tante sorprese Tranquillo Aia aia Libera l'animaletto Ma è molto duro Uh attenta Questo è un colpo da ninja Sorpresona Assoggino Senti cosa hai trovato? Niente Come niente Anche qui c'è l'aspettino Oh che cosa ho visto? Cosa hai visto Ale? No Martino scappare Ale ci tocca mangiare Non abbiamo alternativa Uh Il rinoceronte Ma dov'è la mia famiglia? Guarda lì c'è uno che ha le corna però potrebbe essere No no un triceratopo Beh assomiglia più Un triceratopo di Anna Hai ragione E più il grigio mi dona Io sono Batman Boom Io invece sono Trippo Trippo si chiama Mi piace il nome Aspettate io Batman non sono solo io Ma ho anche il mitico Si illumina il buio Stai scherzando? Non ci posso credere È il momento di chiamare Batman Solo lui ci porterà la migliore cioccolata Ecco Batman Che carino L'avete trovato? Si si Lo chiamerà Trippo Vediamo il nostro Trippo Vieni a vedere Guarda che siderone che ha E parte come per gli altri La caccia pasquale Cambiano un po' gli elementi Finalmente sono elementi naturali E non più città Questi sono quelli Oh cocorini che deve trovare Ecco la mia foto Ma devi dirlo con la voce di Batman Ecco la mia foto Adesso si che sei Batman Guarda che bello E la foto di Mati E' punziosa Guardate qua l'ha fatta con Trippo Vediamovi Ma quanto siete carini Missione numero 5 Guarda in televisione Ladro in azione Guarda la mia camera Oh mamma mia Oddio chi è quello? Potrebbe essere un ladro di uova Un ladro di uova Eh ha il cappuccio Per non farsi riconoscere Ne ha messa una lì No ma non l'ha messa lì No Ragazzi Forse ho capito Lui Si sta scombinando elementi Cosa fa adesso? Infatti Oh mio Dio Si è buttato sul letto Ah no Ha guardato l'orologio Si è svegliato Un peluche Oddio Cosa ha fatto? E' Alfred quello Oh è scappato Andiamo a verificare Sicuri? Eccola la telecamera Eccola Meno male Te l'abbiamo messa Per fortuna Uno Ho provato a confondersi Mettetelo qua Infatti non c'è Meno male che hai fatto i compiti Ragazzi Non c'è Infatti È troppo pesante Qua Veramente Uno è stato trovato Nella missione 06 Ma come avete già Più grandi eh No È bianco Come è bianco? No Nessuna missione Vedremo il da farsi Soprattutto guarda che grandi Che le aveva prese Super pigiamini Maxi Oh twins Andiamo giù Via Andiamo Prima dove volessi Canzi Non c'è nessuno Ma ho testo per sicurezza Brava Sempre controllare Possiamo andare? Canzi Mi sporgi No Lì ci sono le mutande Ok Bene Andiamo Ecco il potente segreto Un uovo si è aperto Un uovo si romperà come un fulmine E come fa Romperci come un fulmine? Si è talmente spaccato Che va proprio assaggiato Ma ti nasconde Non posso guardare niente Uffa È anche toltola La cioccolata E cosa guardo Guardiamo questo Brava Mi sembra un'ottima idea Un perfetto Blue click Ti potrebbero trovare Sia le piccole Che i monster truck Finalmente I monster truck Arrivano anche nelle sorprese Ma noi Avevamo trovato un monster truck Veramente? Quale? Magari uno di quelli Che abbiamo già Io l'ho trovato lui E guardate Aspetta un attimo Mi gira la testa Gekko con Sticker E braccialetto Il braccio Gekko Mamati Andiamo di scansione D'accordo Prova a immaginare Quanto è puccioso Gekko Nell'app Vediamo Eccolo Ma è carinissimo Oh ma che carino È dietro Bene Sì E anche qui Parte La caccia Guarda qua Ma io non ho ancora visto La tua sorpresa Vabbè Vediamola in digitale No Hai trovato No la tigre Che già abbiamo È bellissima La sento rombare Ma soprattutto È gigante No che forza È in grado di andare Dappertutto No No Ho fatto anche la cornice Vediamo Ti possono scegliere Anche io l'ho fatta No Sei Gekko Guarda Oh mamma Venti È bellissimo È bellissimo Da Monster Truck E ora Andiamo Al prossimo indizio Che in realtà non c'è Missione 6 Consiglio Colora qui sotto Con un pennarello Wow Sembra una scritta Avete fatto col gesso Chi avete No Il ladro Il ladro Ovviamente Come dice la canzone Pastello bianco sul diario Questo è un pastello bianco Che ha permesso al ladro Di fare una scritta Sul bianco E se voi la ripassate Con il pennarello Che funziona Sì Vedete tutto Così funziona meglio Ed è anche bicolore Già Nell'armadio sono finiti Perché volevano mettere i vestiti Nell'armadio sono finiti Dov'è che ci sono tanti vestiti? Da mati Da mati forse? C'è solo un armadio Che contiene i vestitini E anche i vestiti Vai C'è questo Sì Questo Quello contiene i vestiti Eccole Vai Trovate? E hanno indossato i vestiti Oh per fortuna Quindi le possiamo aprire No Ma c'è la missione 7 Missione 7 Io prendo Peppa Pig E io Pokemon E allora andiamo Porta giù l'indizio Matti Matti se dentro c'è anche il fango di Peppa Pig Con Peppa O magari l'uovo è fatto col fango di Peppa Pig Vediamo No per fortuna no Giallo giallo Come va da quelle parti ragazzi? Vedifichiamo se è vero Com'è? È buona È buona Per fortuna Questo è l'uovo edizione Teens Quindi vuol dire che si trovano gadget Vediamo il montaggio Ci illumina anche al buio Forte Può essere un porta smartphone O anche porta cuffie Vedi papà che c'era il fango? Non ci credo E guarda sotto Sotto il fango Sì sotto il fango Puoi anche disegnare lo stanzi Di Peppa C'è lo stanzi di Peppa Mi piace Poi abbiamo ovviamente La scansione da fare E gli sticker con gli amici di Peppa Ciao Peppa Anche lei ha la sua caccia pasquale Con il piano da inquadrare Nooo Ma è grandissima Guardate la mia mano Ci può stare anche il tablet Incredibile Ah ma Aspetta non è 3D questo? Eh no Ah si sposta Questo? La grandezza però funziona meglio con la mano Questo è Peppa che pensa Sì E l'altra E Peppa che ha appena saltato nel fango secondo me Perché è soddisfatta E dice non mi sono sporcata Non mi sono sporcata Eccomi E dove è la maschera? Eh non c'è ma c'è Pikachu Ah anche qui Ha una versione semplificata Ehi Oggi proprio ti scappa Corri in bagno e alza la tazza Mi scappa Mi scappa E allora alza la tazza Sali Segui questa combinazione Con modo per buttare a termine la missione Dobbiamo salire Al piano di sopra Al piano di sopra E seguire la combinazione Vi ricordate a voi questo numero qua? Aspetta È lunghissimo Non lo sa Come si potrebbe fare? Non lo so magari con Hai un walkie talkie Matti? Sì un walkie talkie Ce l'abbiamo Io ce l'ho di là Niki ce l'ha qua Ecco Allora con un lavoro di squadra Uno potrebbe restare qua a leggere Sì E uno andare su a vedere D'accordo Io resto qua Niki mi senti? Sì posso È pieno di numeri Oh mio Dio È un classico Se tocchi la casera sbagliata cadi No Al piano di sotto Ci vuole la giusta combinazione Hai chiamato avanti? Sì Allora il primo numero è Nove Nove Piede su nove Fato Scusa il numero sei Sei Fatto Questo numero quattro Fatto Sei sicuro che sia quel quattro? C'è anche questo quattro Chi dire il prossimo? Fatto No beh può essere solo quello Fatto Cosa ho detto? Fatto Sicuro che hai detto tre? Sì Chi dire? Chi li conferma? Cinque Cinque Fatto Sette Fatto Sei Sei Restano due stanze Quale tre? Tre Quale tre? Dimmi il prossimo Otto Tre e otto Questo Ma anche quello è tre e otto Dimmi il prossimo Cosa ho detto? Sette Sette Tre e otto Tre e otto Sette è l'unico Abbiamo finito Possiamo salire adesso Niki? Sì La stanza giusta è quella del bagno Bagno? Avete visto? Che percorso di tessere Che cose Quattro zero Io consiglio di accendere la luce Io anche Luce Brava Luce Luce l'hai volpito È vero il volpito che ha anche la luce No Guardi Super Mario? Sì anche quest'anno C'è Super Mario Non è solo Minnie E allora Scusate La missione ho Ah c'è la missione otto Ho la barba di Mario Ciao Mario Minnie vecchietta Minnie vecchietta Vuoi chi ti aiuti a spaccare l'uovo Minnie vecchietta? Mi dai la barba Avanti con la bottone dell'uovo Serve il tuo tasto mati di distruzione Ah giusto Aspetta aspetta Prima del tasto C'è dieci Nove Otto Sette Sei È l'uovo più grande che c'è Quattro Non ce la faccio Come uno Due 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 Non è vero Una Non è vero Uno Grazie Guarda Kinder Guarda 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 Grande uovo Grande sorpresa Grande sorpresa Speriamo Eccolo Guarda Guarda Che cosa Vabbè ragazzi Guardate Se questo è tagliato così Si può fare un atto No Non richiudo dentro No Non richiudo dentro Le uova di Pasqua Ci vuole un guscio di Super Mario Per aprire quell'uovo Ma no Ma questi scompaiono sempre Non ci buttiamo sul cioccolato Guarda Che ho trovato No Sono il manichino Mi chiamo Ceccherino Guardate qua Eccolo C'è 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 Non ci credo Chi è Yoshi Chi è Yoshi Yoshi è trovato Porto un bello Ma è gigante Yoshi 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 Ma è stupendo Ma quanto grande è Questo è uno Scusami Sono della stessa misura È vero Grazie al fiocco Minnie Si erge Le incredibili altezze Ma questo braccialetto Quindi lo puoi anche indossare Eh sì Mamma Mi piace Abbiamo da scansionare C'è un sticker Sticker Si poteva trovare Mario Luigi Yoshi E tu puoi trovare Yoshi Fantastici Fortunello Oddio Guardati Che cos'era quella Non dimmi che era La testa di Yoshi Non dintelo a niente Yoshi Mi fanno il fotografo Certo Anche Minnie Ha la sua caccia al tesoro E devo dire Che è personalizzata Eh Questa è la prima volta Che li vediamo Ok Yoshi Grazie Un po' più a destra Ecco Guarda che meraviglio Che bei oggetti Che deve cercare Troviamo gli oggetti Nascosti Ciao Vediamo Questo sopra del giallo Come saluta Minnie Non saluta nessuno Falle avanzare Ale Adesso tocca All'arancione piccolo Succede qualcosa Con i contenitori Delle uova No no Aspetta Ho fatto una foto Cosa succede Fermate Ah stiamo facendo L'ordine di Di Uova E questo è Yoshi Ma Non è vero È un koala questo Però è pucciosissimo E non è Yoshi Ma come Guarda lo svaniglia Per quello gli ho messo Il maglioncino Cioè ma vuol dire Che non c'era Yoshi Quindi Non c'è Yoshi No E scansionando Che succede Puoi scegliere Tra tre personaggi Ah tre animaletti Ah con cui Quindi puoi fare Anche la mascherina Sì Ma noi siamo andati a spulciare Perché sul codice C'è anche scritto Un link Kindle.com Barra Super Mario Che ti manda Sul sito del Nintendo Kids Club Dove ci sono dei giochini da fare Guardate qua Minni Oh c'è Matti Minni L'avete visto Che pulizia Che pulizia ragazze Bello Scusi ragazzi Andiamo alla rischia numero 8 Alla rischia numero 8 Mitico Leggiamola allora Leggiamola Missione numero 8 Perché mi interessa particolarmente In cucina Trovate tutto l'occorrente Per fare un pacco regalo sorprendente Andiamo in cucina Se le trovate tutte Solo se le trovate tutte Riceverete un bonus Un uomo per i vostri genitori Eccolo Ai vostri genitori Volevate fare un regalo ai vostri genitori Vero ragazzi Sì Molto bene Altrimenti l'esplosione Sarebbe stata inutile Inutile Vi lasciamo pochi minuti Mi raccomando E poi aspettiamo un pacchetto Non vedo l'ora Ecco voi Grazie ragazzi Grazie ragazzi E adesso Scatiamo Vai Come basta tirare Sopra Non solo ragazzi E' l'uovo di Star Wars Ma sono molto curioso Perché Matti Formici Perché il gusto è nuovo Dark and milk Vuol dire Scoccolata fondente E latte Forza ragazzi Non resisto più Vi serve un pulsante Sì Distruzione Poteva aprirne Siamo noi che dobbiamo aprirlo E' scuro Mi piace Vuole spare laser per romperlo No grande Vai Ale sei pronta E uno E due E tre E tre Sì sì L'hai rotto Il cuore rosso No devo troppo Mi piace Sì partiamo dall'assaggio Allora com'è questo misto Buono Molto interessante E' interessante Perché Il latte E' molto dolce Mi piace Ehi Sei un cavaliere Sit No no Preferisco il jelly Allora apri Cos'è E ci treppi io Sopradoide E sotto manico Di spada Wow Eccoci treppi io No Ma è carinissimo Ma sì Adoro questa versione Pucciosa Anche lui E' la caccia pasquale La meccanica quindi E' la stessa in pratica Per tutti i personaggi A parte gli oggetti Che dobbiamo trovare C'è anche il BB8 Ma proviamo la mascherina Mentre tu la provi Ale Io assaggio Vai Tutti l'aspetto L'ho fatto di coppia Cosa che l'ho fatto No E' fortissimo Occhio a Niki E' ora di decidere Qual è la sorpresa preferita Beh la mia è Treppo Ma treppo Io Yoshi Ci avrei scommesso Che era Yoshi La tua preferita del giorno Annusa Annusa Cosa fa? Annusa Cioccolata probabilmente Sul tavolo E guardate No Allora la mia preferita del giorno Allora come accessorio Il chiamo Batman Mi è piaciuto Da morire Come personaggio Anche io sono con Yoshi E' veramente gigante E come veicolo le otto E poi basta Vieni qua tesoro Si vogliono bene Tu Ale? A me piace Minnie Bella Sempre dolce E anche la posa di Anna Mi dispiace E il fango di Peppa Ops Sono capita nel fango E a voi ragazzi Fateci sapere Su nostro profilo Instagram Quella sorpresa Kinder Pasqua 2022 Che vi è piaciuta di più Io sono Trippo Ciao E se questo video vi è piaciuto Mettete un pollicione E voi non confondete Come Peppa Fango e cioccolato Ma iscrivetevi al canale Youtube GPR Per non perdere I prossimi video Ciao